Nelle vicinanze della facoltà di giurisprudenza a Catania la polizia ha scoperto una struttura ricettiva abusiva, adibita a bed and breakfast per coppiette. Corse clandestine di cavalli e armi a paternò, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza della regione con l'aiuto dei militari dello squadrone li portato cacciatori di Sicilia e dal personale dell'ASP locale hanno denunciato un 31enne. Controlli contro l'illegalità a Catania, i carabinieri della stazione Piazza Dante insieme ai colleghi del XII Regimento Sicilia hanno monitorato diverse zone della città, molti i provvedimenti adottati. Il raccordo viario della statale 121 su Paternò è poco sicuro a causa delle erbacce presenti sulle piazzole che delimitano il reticolo viario all'ingresso e all'uscita della città, resta il rimpallo di competenze tra Comune e Anas. La fontana, sovrastata dalla statua dell'elefante, simbolo di Catania, è stata oltraggiata. Un video divenuto virale sul web riprende una signora in Piazza Duomo con il pass del Giro d'Italia e intenta lavare un pentolone usato per vendere zucchero filato. Denuncia dell'associazione Mascaluccia Doc. Nella biblioteca di Mascaluccia cade un quadro di pregio del pittore Vito Reina, famoso in tutto il mondo, ma a distanza di una settimana nulla si muove. Si chiude l'iter di stabilizzazione per 73 operatori della sanità dell'ASP 3 Catania, completando le procedure di stabilizzazione con assunzione diretta del personale precario che ha maturato nel 2021 i requisiti previsti dalla legge. Nasce a Catania il Comitato Personale Emergenza Covid-19 Sicilia con l'obiettivo di rappresentare il personale assunto nell'isola nel corso della fase emergenziale della pandemia. Una cagnolina segue come un ombra il suo padrone senza guinzaio e senza collare lungo le strade di Adrano una storia che racconta l'amore incondizionato che solo un cane sa dare. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di Ciac News, il telegiornale di Ciac Telesud che apriamo questa sera con la cronaca. è stata scoperta una struttura ricettiva abusiva nelle vicinanze della facoltà di giurisprudenza a Catania. La polizia è rinvenuto un monolocale che è stato trasformato in un bed and breakfast per coppiette. Vediamo il servizio. Scoperta una struttura ricettiva abusiva nelle vicinanze della facoltà di giurisprudenza a Catania. La polizia è rinvenuto un monolocale che è stato trasformato in un bed and breakfast per coppiette con un sistema di accesso a tastiera elettronica come garanzia dell'anonimato e una vasca idromassaggio in stanza. L'attività, nonostante non avesse alcuna autorizzazione, veniva pubblicizzata su motori di ricerca di strutture ricettive. Inoltre era possibile fruire dei servizi di ristorazione. Gli agenti hanno trovato nella struttura una giovane coppia che ha pagato conversamento diretto su Postepay e non aveva consegnato i documenti personali. I titolari della struttura, un 26enne e un 58enne, sono stati multati. Entrambi sono stati denunciati per violazioni di natura penale, per l'omessa comunicazione dei dati dei clienti all'autorità di pubblica sicurezza. Infine verrà inviata una segnalazione alla Guardia di Finanza per rilevare le violazioni in materia fiscale. E proseguiamo sempre con la cronaca perché lavoratori in nero all'interno di un esercizio pubblico del centro di Catania sono stati trovati dai poliziotti del commissariato Borgognina che hanno controllato una panineria e sanzionato il titolare dell'attività poiché i due addetti alla vendita erano privi di un regolare contratto di lavoro. Uno è inoltre il risultato per settori del reddito di cittadinanza ed è stato indagato in stato di libertà nonché segnalato all'Inps per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate. Corse clandestine di cavalli e armi a paternò i carabinieri del nucleo operativo della stazione locale con l'aiuto dei militari dello squadrone Eliportato, cacciatori di Sicilia del personale dell'ASP locale, hanno denunciato un 31enne. Vediamo. Corse clandestine di cavalli e armi, il responsabile è stato individuato grazie all'analisi di video sui social. I carabinieri di paternò con l'aiuto dei militari dello squadrone Eliportato, cacciatori di Sicilia del personale dell'ASP locale, hanno denunciato un 31enne per detenzione abusiva di armi e maltrattamento di animali. Al centro delle indagini filmati con sottofondo di musica neomelodica che riprendevano una corsa clandestina di cavalli avvenute in inverno. Le forze dell'ordine, dopo l'attività di controllo, si sono recate in via Trecasi a paternò in un fabbricato rurale interamente abusivo che era stato adibito a stalla e veniva usato dall'uomo. Quest'ultimo, secondo gli investigatori, sarebbe organizzatore e partecipante di gare clandestine andato in scena nel Catanese. Dalla perquisizione è emersa la presenza di tre cavalli, nonché di una pistola semi-automatica calibro 7,65 e 28 cartucce calibro 44, nascoste nel terreno di pertinenza. Sequestrati inoltre diversi farmaci per uso veterinario, alcuni di importazione estera e senza la prescrizione medica e la relativa autorizzazione all'importazione, un quaderno con i nominativi per le scommesse, il piano terapeutico dell'animale e un calesse. È venuta alla luce anche la mancanza di codice aziendale che ha comportato una sanzione amministrativa per oltre 30.000 euro. Il medico veterinario dell'ASPA ha visitato i cavalli che erano in buone condizioni di salute ma sono stati comunque sottoposti a sequestro amministrativo. Nel 2021 e nel 2022 sono stati svolti molti servizi di controllo per prevenire e reprimere reati commessi nei confronti dei cavalli. E ancora a cronaca controlli contro l'illegalità a Catania, i carabinieri della stazione Piazza Dante insieme ai colleghi del XII Reggimento Sicilia hanno monitorato diverse zone della città, molti i provvedimenti adottati. Vediamo. Controlli contro l'illegalità a Catania, i carabinieri della stazione Piazza Dante insieme ai colleghi del XII Reggimento Sicilia hanno svolto un servizio di monitoraggio nella zona della piazza Federico di Svevia identificate numerose persone, controllate diverse vetture in transito monitoraggi pure in piazza Alcalà Borsellino e in piazza Caduti del Mare, Tondicello della Playa elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per oltre 17.000 euro in particolare sono state riscontrate diverse infrazioni guida senza patente mai conseguita, mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco protettivo e assenza di copertura assicurativa scatta il fermo amministrativo il sequestro di sette tra i mezzi controllati inoltre due maggiorenni sono stati trovati con dosi di marijuana entrambi sono stati segnalati alla prefettura e adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di strade e sicurezza il raccordo viario sulla strada statale 121 su Paternò è poco sicuro a causa delle erbacce presenti sulle piazzole che delimitano il reticolo viario all'ingresso e all'uscita della città resta il rimpallo di competenze tra il Comune e l'ANAS vediamo il servizio pulizia questa sconosciuta le piazzole sparti traffico da e per Paternò dalla statale 121 e all'ingresso della cittadina paternese in direzione SS 284 e verso Belpasso sono uno scempio alla vista e soprattutto sono pericolosissime per i conducenti di veicoli in transito una denuncia non nuova avanzata già allo fine dello scorso mese di aprile da diversi cittadini senza ottenere risposta resta il rimpallo di competenze tra l'ente comunale e l'ANAS tra chi ha la reale competenza per la pulizia della zona nell'attesa di capire chi debba effettivamente pulire il risultato come detto è lo scempio con erba altissima in tutta l'area del raccordo di innesto per Paternò ed uscita in direzione Adrano Belpasso da qualche giorno la viabilità è diventata meno pericolosa grazie all'intervento di due cittadini paternesi che con azioni diverse hanno eliminato le erbacce che ostruivano la visuale nei punti più pericolosi per la viabilità faccio quella strada quattro volte al giorno evidenzi il primo cittadino paternese che ha ripulito la zona qui c'erano stati anche incidenti non potevo far finta di nulla ma tra l'altro continuo a dire pulisco questa piazzola da tre anni l'altra piazzola è stata fatta ripulire ieri anche qui dopo una sollecitazione di diversi cittadini paternesi che ne lamentavano la pericolosità si tratta comunque di un piccolo intervento visto che gran parte delle piazzole restano piene di erbacce con l'estate alle porte e le temperature in salita sono aree pericolose per gli incendi chiarezza dunque occorre sulle competenze e soprattutto un'immediata pulizia senza dimenticare queste aree in futuro altra domanda che resta senza una risposta al momento guardando proprio al raccordo di strade d'innesto ed uscita su Paternò che fine ha fatto il finanziamento da 2 milioni di euro circa messo a disposizione oltre due anni fa per ridisegnare tutta questa zona rimaniamo sempre su quest'argomento il comune di Paternò ribadisce che la competenza della pulizia degli svincoli compete all'ANAS non a caso il responsabile dell'ufficio al verde del comune ha inviato lunedì scorso proprio all'ANAS una nota dove si chiede un immediato intervento di loro competenza se non si opererà nell'immediato evidenzia l'assessore Luigi Gulisano al massimo entro lunedì interverrà il comune in danno proprio all'ANAS e adesso ci spostiamo nuovamente a Catania la fontana dell'elefante simbolo di Catania al Duomo è stata oltraggiata un video divenuto virale sul web riprende una signora con il pass del Giro d'Italia intenta lavare un pentolone usato per vendere zucchero filato vediamo la statua dell'elefante simbolo di Catania è stata oltraggiata un video divenuto ormai virale sul web riprende nel corso della tappa catanese del Giro d'Italia una signora con il pass dell'organizzazione intenta lavare un pentolone usato probabilmente per vendere dolciumi e più specificatamente zucchero filato facendo diventare l'acqua della fontana di Piazza Duomo di un colore blu intenso un gesto che ha provocato indignazione generale per l'azione di per sé degradante per quello che si poteva fare per fermarla i primi provvedimenti nei confronti della responsabile sono già arrivati in primis infatti la direzione del Giro d'Italia ha inviato una nota di scusi all'amministrazione comunale che aveva già segnalato agli organizzatori della corsa il comportamento gravemente lesivo e irrispettoso relativamente al fatto increscioso accaduto in Piazza Duomo a Catania la direzione del Giro d'Italia comunica che una volta appresa la situazione è allontanato dalla coravana la persona responsabile si legge in un comunicato il Giro d'Italia si scusa con la città di Catania e condanna allo sconsiderato gesto di un singolo e vuole sottolineare come la Corsa Rosa abbia sempre prestato grande attenzione alla tutela dei monumenti dei siti del nostro paese oltre che a quella dell'ambiente un pregevole quadro del pittore con ago e filo Vito Reina di Masca Lucia rischia di danneggiarsi dopo una caduta e a una settimana di distanza dal fatto il comune di Masca Lucia non ha ancora provveduto a mettere in sicurezza l'opera la denuncia è dell'associazione Masca Lucia Doc sentiamo il servizio si chiamava Vito Reina ed era un pittore originario di Masca Lucia che dipingeva con ago e filo assemblava ritagli di feltro colorato sino a realizzare delle opere pregevoli che hanno avuto riconoscimento mondiale fra cui una prestigiosa medaglia d'oro ricevuta a New York e l'apprezzamento di Jacqueline Kennedy 13 opere del maestro Reina sono custodite nella sala principale della biblioteca di Masca Lucia è stato lo stesso pittore a donarle al comune accade che il quadro di maggior pregio che raffigura San Vito patrono della cittadina e intimamente legato alla comunità cada, il vetro vada in frantumi e a distanza di una settimana nulla è ancora accaduto per la messa in sicurezza dell'opera prende posizione l'associazione Masca Lucia Doc che tramite il suo vicepresidente Giuseppe Reina denuncia l'accaduto in un post sulla sua pagina Facebook dopo aver ricevuto dal sindaco Vincenzo Magra la rassicurazione di un pronto intervento era stata la stessa associazione ad accorgersi di quanto era avvenuto dopo aver chiesto l'autorizzazione al sindaco di fotografare i quadri notata l'opera a terra e schegge di vetro piantate nella stoffa i soci di Masca Lucia Doc hanno provveduto alla pulitura per fortuna l'opera non si è danneggiata nonché alla rimozione dal muro delle altre 12 opere anch'esse a rischio caduta ma dopo la segnalazione al sindaco di Masca Lucia del fatto con la richiesta di messa in sicurezza nulla si è ancora mosso a distanza di una settimana Francesca Calì presidente di Masca Lucia Doc la richiesta che noi facciamo all'amministrazione comunale è che il quadro principale quello dedicato a San Vito venga subito immediatamente riparato e che il resto della collezione venga messo in sicurezza oggi pomeriggio ho sentito personalmente il sindaco l'architetto Vincenzo Magra che mi ha assicurato che entro la prossima settimana il quadro verrà riparato è che quanto prima le opere d'arti verranno spostate non solo in una sala degna ma una sala che sia fruibile anche al pubblico abbiamo contattato il sindaco di Masca Lucia Vincenzo Magra per una replica ma il primo cittadino preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni rindiandoci alla prossima settimana parliamo adesso di personale sanitario giunge la tanto agognata stabilizzazione per oltre 70 operatori della sanità catanese e l'ASP a provvedere agli adempimenti di legge diamo il servizio si è chiuso l'iter di stabilizzazione per 73 operatori della sanità dell'ASP 3 Catania completando le procedure con assunzione diretta del personale precario che ha maturato nel 2021 i requisiti previsti dalla legge hanno firmato i contratti come previsto dalla legge Madia dirigente, medici, infermieri, avvocati un architetto, tecnici, operatori sociosanitari entro la fine del mese di maggio saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana gli avvisi per la stabilizzazione mediante concorso di 34 operatori 5 dirigenti e 29 operatori del comparto il superamento del precariato rappresenta una misura di tutela dei lavoratori e un'opportunità di valorizzazione delle professionalità maturate prossime tappe le stabilizzazioni mediate da concorso e l'avvio entro l'autunno della nuova ricognizione del personale precario un altro traguardo raggiunto dichiara il direttore generale dell'ASP Catania Maurizio Lanza sia per la governanza aziendale sia per i numerosi lavoratori che da oggi scrivono una pagina di stabilità e di crescita nelle loro carriere professionali Restiamo sull'argomento perché nasce a Catania il Comitato Personale Emergenza Covid-19 Sicilia con l'obiettivo di rappresentare il personale assunto nell'isola nel corso della fase emergenziale tutti i dettagli nel prossimo contributo Nasce a Catania il Comitato Personale Emergenza Covid-19 Sicilia con l'obiettivo di rappresentare il personale assunto nell'isola nel corso della fase emergenziale l'idea è scaturita dall'esperienza di un comitato spontaneo nato tempo fa alle pendici dell'Etna si punta alla realizzazione di iniziative per tutelare i lavoratori valorizzarli ora e in futuro il presidente del gruppo è Roberto Alacqua che è intervenuto insieme al portavoce Giuseppe Virgilito in questi due anni di pandemia nella nostra regione tramite vari bandi di selezione sono state assunte oltre 2000 persone tra assistenti tecnici informatici assistenti amministrativi e collaboratori amministrativi ingegneri, psicologi e psichiatri assistenti sociali ed educatori affermano i due siamo giovani professionisti che con grande spirito di servizio e abnegazione hanno fornito e stanno continuando a fornire un importante contributo al sistema sanitario nella lotta contro la diffusione del Covid nella quasi totalità dei casi i colleghi si sono rivelati necessari per il potenziamento degli uffici delle aziende sanitarie e ospedaliere in cui hanno continuato a prestare servizio segno che evidentemente queste strutture avevano già estremo bisogno di essere rimpolpate anche attraverso un indispensabile ricambio generazionale abbiamo ricevuto nel tempo la giusta formazione stiamo continuando a integrarci nell'ambito dei settori dove siamo stati destinati lavorando in piena sintonia con i direttori dei dipartimenti e dipendenti che ci hanno accolto con entusiasmo e disponibilità peccato però che nonostante la normativa nazionale proseguono e un atto di indirizzo dell'assessore regionale della salute Ruggero Razza abbiano indicato la possibilità di proroga del nostro incarico al 31 dicembre 2022 rimaniamo appesi alla prospettiva di proroghe di mese in mese e quanto emanato dallo stesso assessore continuano ancora ci risulta non essere tenuto in considerazione nella giusta misura e di modo uniforme dalle aziende sanitarie ed ospedaliere ci riferiamo principalmente al previsto riconoscimento della nostra qualità nei concorsi che già in queste settimane sono stati banditi nella sanità pubblica abbiamo quindi voluto fortemente formalizzare questo comitato grazie alla spinta di numerosi colleghi con l'ambizione di raggruppare la totalità dei precari come noi per avviare un dialogo con le istituzioni preposte della regione con le aziende con i sindacati e con tutti coloro che vorranno ascoltare la nostra rivendicazione concludono all'acqua e virgilito con l'augurio che già da questa legge di stabilità regionale possa esserci un segnale in favore della nostra categoria e chiudiamo con un ultimo servizio una cagnolina segue come un ombre il suo padrone senza guinzaglio e senza collare lungo le strade di Adrano lo segue ovunque senza di lui non va da nessuna parte una storia semplice che racconta l'amore incondizionato che solo un cane sa dare vediamo piccola storia di una cagnolina che non sa cosa sia un guinzaglio o un collare non ne ha bisogno perché lei segue sempre il suo padrone in maniera naturale dove va lui va lei sembra accanto una storia semplice l'esempio più lampante dell'amore incondizionato che solo un cane sa dare e stella corre sempre libera e felice come soli i cani sanno fare li abbiamo incontrati questa mattina lei che abbaia solo quando il suo padrone si ferma perché lei ferma non sa stare e se si muove lo fa solo con il suo padrone anche questo è amore raccontiamo la storia di questa cagnolina ci ha colpito perché va sempre al seguito del suo padrone senza guinzaglio vero? non l'ha mai messo no no non mi segue sempre se mi fermo lei si ferma se io cammino lei mi risegue di nuovo adesso sta bagnando per quale motivo? ah non lo so se vede non gli piace stare perché vuole camminare sempre vuole camminare sempre adesso adesso vi lascio liberi senta ci racconta allora la storia di questa cagnolina? niente la tenevano in campagna in un recinto così 4x4 e gliel'ho chiesta e me l'hanno data ah l'ha chiesta lei e per quale motivo così? perché insomma mi piaceva come cagnolina si racconti il rapporto fra lei e Stella? ma niente il rapporto non lo so si è instaurato questo tipo di rapporto ma non so come perché non lo so ma lei non si muove se lei non va da nessuna parte? non mi muovo lei non si muove se io cammino lei mi segue senta questa è una storia semplicissima giusto noi l'abbiamo voluta raccontare per ribadire l'importanza dell'amore per gli animali giusto? per gli animali sì sì è fondamentale che c'è tanta gente che maltratta gli animali e sta cosa intristisce molto ma lei ha mai avuto altri cani in precedenza? ma no mai gatti sì ma cani mai che poi tra l'altro il fatto che lei mi segue quando io cammino e si ferma quando io mi fermo è stata una cosa naturale naturale adesso io gli ho insegnato ho capito ma è strata no insomma lei Stella vuole solo amore da lei solo affetto solo affetto e bad eh e a mangiare certo e Stella è insomma l'esempio emblematico dell'amore incondizionato che gli animali danno all'uomo ah sì 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 questa senz'altro adesso la lascio perché Stella sta abbaiando perché insomma vuole camminare giusto lei non vuole stare ferma e senza di lei lei non va da nessuna parte va bene allora arrivederci e con questa notizia termina questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione collegandovi al sito www.ciac.telesud.com potete seguirci anche sui social facebook instagram o telegram grazie a tutti voi per averci seguito una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti